salve care amiche e cari amici ho tardato un po di tempo prima di iniziare questa live perché ho dovuto cancellare un episodio trattava delle messaggi subliminali delle della percezione subliminale però non avete paura non dovete avere paura perché quell'episodio l'ho salvato e adesso lo potete trovare nel mio canale di youtube santen chan il canale si chiama radio santen chan e l'ho creato manco farlo apposta per salvare tutti i radio live broadcast di sprecher che devo cancellare perché io sono disoccupato non mi posso pagare un piano a pagamento e poi perché sprecher ha ridotto il limite da dieci ore di tempo a quattro ore credo o cinque e poi le live dal cellulare durano quindi 15 minuti piuttosto che mezz'ora o come all'inizio un'ora vabbè non mi dilungo di più ho cancellato un episodio ogni tanto lo devo fare ma voi lo troverete nel mio canale di youtube radio santen chan adesso inizio un discorso perché non mi andava di fare un video per youtube oggi è troppo tardi e io mi sento stanco mi sento solo di parlare allora il mio amico il nostro amico di youtube e anche di instagram dunclol83 dunclol83 salve amico poi ti darò il link di questo radioprogramma oppure il link del del video ma io ti saluto perché ti seguo sempre e so che anche tu mi segui mi ha detto dunclol83 che per avere successo in youtube servono due cose innanzitutto una telecamera o una filmatrice o una macchina fotografica insomma un ordigno anche un cellulare con una buona risoluzione chiaramente il live streaming dal cellulare viene sempre di scarsa risoluzione e poi essere trash infatti io adesso ho fatto una breve ricerca ho googlato un po in internet dal cellulare perché volevo vedere che cos'era questo trash io già dal 2010 2013 ho visto i video di matteo montesi il quale saluto e non credo che seguirà questa trasmissione poi ho visto di giuseppe simone soprattutto nel 2010 ho visto i mostri del tubo l'orco patatone gladiatore e tanti altri no manimarco però non so come fare del trash e dicono che sia una via per raggiungere almeno la popolarità e un iniziale successo perché poi uno può anche decidere di cambiare contenuto infatti ciò che ha fatto un cantante che non mi ricordo come si chiama ma che tutti hanno preso in giro e io ho detto all'inizio guardate che non è come si presenta non mi ricordo chi quello che cantava ebbene era per me tutto studiato a tavolino fra qualche anno sarà un classico a sanremo eppure ha avuto molto successo perché noi italiani sia lobby del criticare e quindi si criticano le apparenze invece young signorino ecco il suo nome young signorino ha molto giocato sulle apparenze ma se tu vai a vedere ogni suo video caricato in youtube vedi che c'è una sfilza di persone che hanno collaborato alla produzione del video addirittura alla creazione del testo per quanto semplice possa essere allora c'è dietro tutto un lavoro di marketing nulla è casuale e la gente si crede che sono cose casuali il successo non è nient'altro diceva wilson churchill che la culminazione di una serie di fracassi quindi di un signorino dicono che già dal 2016 o dal 2012 che va in giro facendo cose e ogni volta cambia immagine ma perché cambia immagine perché evidentemente se non hai avuto successo fino adesso e ti presenti sempre uguale la gente ti associerà alla tua mancanza di successo invece se ti presenti come un'altra immagine il nuovo pubblico non ti associa a quello che hai fatto precedentemente quindi puoi avere improvvisamente successo e nessuno si ricorda che precedentemente non hai avuto mai successo negli anni precedenti quindi lui ha sempre cambiato immagine ha sempre cambiato modo di fare e adesso ha capito che bisogna essere veramente il trash del trash perché come si suol dire a volte il peggio del peggio è il meglio ci sono infatti tre qualità possibili nelle cose nelle persone il meglio il peggio ed il peggio del peggio che non è il peggio ma passa a essere il meglio infatti quando un film è bello tutti lo vogliono guardare quando un film è brutto non lo guarda nessuno ma quando un film è così brutto da essere inconcepibilmente brutto uno fa un altro mai visto quel film no non lo guardare perché guarda è una schifezza ma è davvero brutto ma non solo è brutto ma più brutto di così non si può è il peggio che si abbia visto e tu che credi che l'altra persona non lo va di a guardare per curiosità lo va a guardare perché se è una cosa che più brutta di così non si può e allora vuol dire che è il no plus ultra del brutto un po come la storia di un bel film di nino frassica a proposito del b e del ba che non è riuscito come loro volevano ma è riuscito lo stesso un cult moby perché è un film più surrealista di quello non si poteva alla fine non si sa bene di cosa parli ma appunto proprio perché un film sconclusionato che è piaciuto molto ed è un po come le animazioni che facevano in blog con i personaggi di blog volgari trash infatti secondo me il trash è nato in blog di rai 3 e non in youtube tutti i vari youtubers che vogliono fare trash in realtà per quanto giovani per quanto millenials molti di loro no come matteo montesi come giuseppe simone come l'orco patatone che hanno fatto dei video mangiando come un personaggio di blog e che addirittura quel personaggio di blog dopo aver mangiato tanto aversi fatto una buffata ha pure vomitato e questo in un programma trasmesso dalla televisione italiana da rai 3 tutti loro mangiando abbuffandosi dicendo idiozie vogliono imitare i personaggi di blog sino non era blog scusate io ripeto blog blog di rai 3 io lo seguivo blog e poi mi sono messo a seguire il trash italiano in youtube all'inizio non ci feci caso poi notai una somiglianza verosimile tra i personaggi di blog di rai 3 che voi potrete trovare in youtube molti episodi di blog di rai 3 e vedrete che come matteo montesi mangia sbrana un pollo arrosto così lo ha fatto un personaggio di blog che nel corso del filmato un gatto gli passeggia intorno e lui prima si mangia non so una cosa liquida che c'è dentro un enorme tegame o pentola di alluminio e poi si mangia un pollo e poi vomita e poi beve un fiasco di vino intero ebbene mi sembrava di vedere matteo montesi o giuseppe simone mangiando quindi secondo dank lol il mio amico dank lol dank lol 83 che probabilmente 83 sarà la sua data di nascita che fa degli splendidi live io per avere successo dovrei fare del trash e ha detto il genere trash non è il tuo perché tu sei troppo intelligente tu sei troppo intellettuale tu fai dei video parlando parli troppo parli di cose intellettuali parli di libri parli di letture come potrete apprezzare dalla foto che ho caricato per questo live broadcast trasmissione radio in vivo ho messo una foto che mi sono scattato tempo fa diciamo d'estate quest'estate a torso nudo mangiando che poi qualcuno che mi tormentava in instagram e di cui non faccio il nome perché tra l'altro non usa neanche il suo nome mi diceva ma che schifo ma che foto e questa ma scusa tu d'estate come mangi al mare e in frac ti vesti d'inverno col capotto di pelliccia di pelle con che mangi vabbè con che mangi con le spostate ma come ti vesti per mangiare al mare io ho delle bracche da bagno non uso il costume corto uso proprio i bozzer per bagnarmi cioè i bozzer da bagno quelli per per bagnarsi no sono un po' all'antica non metto slip tanga queste cose qua no metto tipo bozzer il costume da bagno mio e il bozzer però mangia torso nudo fa caldo posto spiaggia ma anche in casa d'estate mangia torso nudo allora mi sono scattato una foto siccome il trash e anche mangiare a torso nudo farò dei video trash ma aiutatemi voi io voglio recuperare le monetizzazioni di youtube anche perché sono disoccupato e quindi carico questo questo radioprogramma radio broadcast niente per parlare del più del meno perché ormai stavo facendo dei programmi ogni 4 6 8 mesi in sprecher e mi sembra ingiusto perché avevo raggiunto più di 800 iscritti e poi alla fine li avevo persi comunque non vi scordate di seguirmi in blogger e anche in wordpress che scrivo molti articoli lì grazie di seguirmi arrivederci in bocca al lupo a tutti e mi raccomando seguitemi nel mio canale di youtube santenchan anche per coloro che ascolteranno questo mio video caricato nel mio canale radio santenchan di youtube e un saluto a amleta bloom che mi segue sempre ciao grazie di seguirmi a presto